Monterchi omaggia, dobbiamo dirlo, questa cinquantesima che per noi è la cinquantesima edizione della sagra, anzi della festa, come ama definirla il presidente Luca Fabriciani, della Polenta. Le prime due giornate gli dei della Polenta ci hanno graziato, quindi giornate partite meteorologicamente molto male si sono poi rivelate perfette per la Polenta, la giornata di ieri sera un pochino più freschina ma grandissimo afflusso di persone che voglio ringraziare e soprattutto voglio ringraziare l'enorme numero di volontari che abbiamo messo in campo, che magari vedete anche qui alle mie spalle, abbiamo il record di volontari monterchiesi, veramente il grazie più grande a tutti questi volontari. Temperatura proprio da Polenta, poi l'alternativa è stata brava a scaldarci sul dopocena, quindi è stato molto bello. Noi stiamo lavorando da questa festa da marzo, aprile praticamente, quindi veramente arrivare qui e trovare anche queste giornate di sole così è un coronamento di uno sforzo enorme ma fatto veramente molto molto volentieri. Quindi io direi di concludere con un bel Viva la Polenta di Monterchi. Viva la Polenta di Monterchi, viva la sagra della Polenta, viva la festa. E viva la Proloco che la realizza. Grazie, grazie mille.